Cari ascoltatori di Radio Puggino NER, bentornati ad un nuovo episodio del nostro approfondimento quotidiano. Oggi affrontiamo un tema caldo della politica italiana che ha scatenato polemiche e dibattiti accesi sui media. La diatriba tra il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e la premier Giorgia Meloni. Preparatevi ad un'analisi di questa vicenda che ha visto accuse e risposte pungenti tra due delle figure più carismatiche e del panorama politico italiano. Tutto è iniziato con un episodio che ha fatto il giro dei media durante una visita a Caivano. Giorgia Meloni ha salutato Vincenzo De Luca con una frase che ha sorpreso molti, sono quella stronza della Meloni. Infatti così l'aveva definita durante un fuori onda pochi giorni fa recentemente Vincenzo De Luca, quando stava protestando ed era in attesa di essere ricevuto tra l'altro dal palazzo. La Meloni aveva fatto dichiarazioni su di lui e lui aveva detto che è quella stronza della Meloni. Insomma, questo riferimento riprende un vecchio insulto dello stesso De Luca nei confronti della premier. La reazione immediata di De Luca è stata di shock, ma il governatore Campano non ha tardato a replicare. Nel corso della sua consueta diretta social, De Luca ha affrontato nuovamente l'argomento, contrattaccando Giorgia Meloni con toni decisi. Ha espresso il suo fastidio nel parlare di queste stupidaggini nel momento in cui il mondo vive tragedie e guerre. Un'introduzione che ha preparato il terreno per le critiche seguenti. Secondo De Luca, la performance di Giorgia Meloni è stata volgare e studiata a tavolino. Un tentativo di comunicazione politica che lui considera un autogol. De Luca non si è fermato qui. Ha accusato la premier di inadeguatezza e di essere presidente del Consiglio a sua insaputa. Queste parole forti sono state pronunciate con l'intento di evidenziare, secondo lui, una mancanza di consapevolezza da parte di Giorgia Meloni riguardo al ruolo istituzionale che ricopre. La critica principale di De Luca è che la premier non abbia compreso l'importanza e la responsabilità del suo incarico. Questa replica di De Luca è stata ampiamente discussa nel programma Tagadà sulla 7, condotto da Tiziana Panella. Durante la trasmissione diversi ospiti hanno commentato le dichiarazioni del governatore. Roberto Arditti, giornalista e ospite del programma, ha ricordato come De Luca sia diventato noto anche grazie alle imitazioni di Maurizio Crozza. Ha sottolineato che anche De Luca in passato ha usato toni accesi e invettive politiche non sempre eleganti. Un commento che mette in luce l'ipocrisia che spesso caratterizza la politica. E questo scambio di battute tra De Luca e Meloni offre uno spunto per riflettere sulla qualità del dibattito politico in Italia. Spesso le discussioni politiche si trasformano in attacchi personali e polemiche, distogliendo l'attenzione dai veri problemi del Paese. La retorica infuocata può catturare l'attenzione del pubblico ma rischia di alimentare una politica basata più sugli insulti che sulle soluzioni concrete. I media hanno un ruolo cruciale in queste dinamiche amplificando spesso i toni e le dichiarazioni più controverse. Programmi come Tagadà danno spazio a questi confronti alimentando il dibattito pubblico. Tuttavia è importante che anche i media contribuiscano a riportare la discussione su un piano più costruttivo, focalizzandosi su temi di sostanza e non solo sui aspetti più teatrali della politica. In conclusione, il recente scambio tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni rappresenta un esempio emblematico delle tensioni e delle dinamiche della politica italiana. Mentre i toni accesi e le battute possono attirare l'attenzione, è essenziale che i leader politici ricordino l'importanza del loro ruolo e si concentrino sulle questioni che realmente interessano e influenzano la vita dei cittadini. Speriamo che questo episodio possa servire come spunto per un dibattito più sano e orientato alla ricerca di soluzioni concrete. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questo episodio in maniera tale da aprire anche qui sotto il nostro podcast un dibattito su questo tema. Grazie per averci seguito in questo episodio. Continuate a sintonizzarvi su Radio Puginion Air per rimanere informati e partecipare alle discussioni più attuali e rilevanti del nostro tempo. Alla prossima puntata.